Un uomo Un uomo a bordo Un uomo a bordo Un uomo a bordo Uno al volto Uno al torace E uno tra stomaco e fegato Trasportato in condizioni critiche all'ospedale E' stato sottoposto a due interventi chirurgici Andati avanti fino alle 5 Ora è ricoverato in rianimazione In prognosi riservata Ha riportato lesioni a diversi organi Nonché agli arti e al volto Non sembra avere precedenti Walter Albi Architetto stimato Che in passato aveva lavorato anche per il comune di Pescara Come direttore dei lavori Nella manutenzione straordinaria Delle coperture delle case Popolari a Fontanelle Ex calciatore di categorie minori Cavallito a quanto pare Aveva invece piccoli precedenti Forrestato dieci anni fa Per detenzione ai fini di spaccio Insieme a tre cerignolani Nell'auto fermata dai carabinieri 200 panetti di Ashish Per un peso complessivo di circa 19 chili Per un valore sul mercato Di circa 150 mila euro Sulle tracce dell'assassino Si sono messi subito al lavoro Le forze dell'ordine Che sperano Confidando nell'aiuto delle telecamere Posizionate in altre zone della città Di recuperare notizie fondamentali Per cominciare a capire il perché di questo gesto Un'esecuzione in perfetto stile mafioso E su questa ipotesi Che sta lavorando la procura pescarese Dopo il dublice agguato di ieri sera Al bar del parco Non solo come riferisce Lanza L'assassino ha poi prelevato i cellulari Delle due vittime Prima di scappare sulla moto Ieri sera dopo l'attentato Le forze dell'ordine hanno dato il via Ad alcune perquisizioni nelle case delle vittime Manca ancora il movente Ma alcune voci parlano di questioni economiche E si indaga sul passato delle due vittime E si vocifera di un appuntamento Con qualche persona Che due avrebbero atteso al bar Intanto il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo Ha convocato per oggi alle ore 17.30 Una riunione del Comitato Provinciale Per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica E dopo l'ennesimo episodio di violenza La città torna a interrogarsi Sulla questione sicurezza Il sindaco Carlo Masci Chiede più unità di polizia E conferma ancora una volta Come Pescara sia una città sicura Pescara è ancora una città sicura? Ora se lo chiedono in tanti Dopo l'episodio di violenza Che ha riportato al centro Della cronaca nazionale La città adriatica Un delitto senza pietà Colpi di pistola Che non hanno lasciato scampo All'architetto Walter Albi Mentre il suo amico Luca Cavallito Che era lì con lui adesso Lotta tra la vita e la morte Sul luogo del delitto È intervenuto il sindaco Carlo Masci Che chiede gran voce Non solo al questore Ma anche agli organi superiori Come il Ministero dell'Interno Di dotare la città Di più agenti di polizia Nei giorni scorsi Proprio in un tavolo tecnico In prefettura Il questore Luigi Liguori Aveva lamentato Scarsità di personale Non è possibile Che ci siano solo due volanti Della polizia Che girano di notte a Pescara Quando Pescara è una città Di grande attrattiva D'altra parte Lo dimostra anche il fatto Che purtroppo Dei due Che sono stati coinvolti In questo episodio Uno È il residente a Francavilla E l'altro a Montedilvano Però si incontrano a Pescara Sono pescaresi Gente che vive il nostro territorio Che viveva il nostro territorio Non è possibile Che accadano questi episodi La città vuole risposte chiare Forti e determinate E poi è lo stesso primo cittadino A voler smentire le voci Che vorrebbero pescare A una città non più sicura Ma dove è evidente Che gli episodi di violenza Stanno aumentando Senza scavare troppo nel passato Possiamo benissimo ricordare L'uccisione di Marco Cervoni Il primo gennaio del 2020 Ucciso nel quartiere di Rancitelli E poi la sparatoria Che ha coinvolto il 10 aprile scorso Il barista Yelfi Gruzman In pieno centro La città è controllata Abbiamo 400 telecamere Adesso sono all'opera Per cercare di individuare Se possibile L'assassino Però Pescara ha bisogno Di più controlli Da parte delle forze dell'ordine Ora cittadini e residenti Di quella zona Sono sconvolti Ai nostri microfoni La testimonianza Di un genitore Che si trovava Insieme ai suoi figli Presso il parco Kidland Il primo pensiero È andato ai bambini Che stavano giocando Abbiamo visto gente Poi scappare Correre dentro Gridare C'è un pazzo Che sta sparando Il primo pensiero È stato correre dai bambini E metterli al sicuro Quindi poi Ci siamo rifugiati All'interno del locale Il gestore è stato pronto A chiudere ogni accesso Per mettere al sicuro Le persone dentro E poi abbiamo visto Arrivare polizia Da tutte le parti Ambulanze Pian piano Si è formata la storia Dove è venuto fuori Costanzialmente Da quello che si capisce Un attentato Voltiamo pagina Siamo alla politica E l'avvocato avezzanese Leonardo Cascere A lanciare un appello Alla politica regionale In vista delle prossime Elezioni politiche Del 25 settembre Abbiamo l'obbligo Di costituire Un fronte comune Per trovare Un rappresentante Locale Politiche all'orizzonte I ranghi Si sono già serrati Ed è ora il tempo Di mordere La mela Delle alleanze In vista del 25 settembre Centrodestra Centrosinistra E forse Terzo polo L'avvocato Leonardo Cascere Di Avezzano Già amministratore Uomo politico Invia una lettera Aperta Alla stampa L'appello Anche abbastanza Incisivo È quello di candidare Un marsicano Alle prossime politiche Ed evitare Dice lui L'ennesimo Paracadutato Dall'alto O esterno Alle dinamiche Territoriali Nella precedente Consultazione Dice Cascere Nella lettera Fummo costretti A votare Con il sistema Maggioritario Uninominale Un signore di Pescara Tutti sconosciuto Che tale È rimasto Il quadro generale È veramente avvilente Perché il pensiero Che non possa essere candidato Qualcuno Della marsica È qualcosa Di orripilante Perché ormai Abbiamo subito Spoliazione Di ogni tipo Abbiamo avuto Una politica Che non ha avuto Nessuna attenzione Nei confronti al territorio Sarebbe il momento Opportuno Di cominciare a pensare A una candidatura seria Sia a destra Che a sinistra Che sia Di un cittadino Marsicano di livello E ce ne sono tanti Sia donne Che uomini Che hanno cultura E sono capaci Di rappresentare Benissimo il territorio Il territorio Ormai è stato depretato E voi lo sapete Ospedale All'omicino Tribunale Al collasso Il nucleo industriale È un dramma In più Non riesce a capire Il cittadino Che siccome Questa città Non ha Uno sviluppo intelligente C'è un abbattimento Di valori Di tutti gli immobili C'è un abbattimento Di valori Delle ditte Nel momento in cui Non il tribunale Non vi sarà più E spero di Riuscire a combattere In modo tale Da farlo permanere Ma nel momento in cui Dovesse succedere Voi immaginate Che cosa succederà Per quanto riguarda Le aziende Non verranno più Perché non c'è più La tutela legale Ragion per cui Ci troveremo Di fronte a difficoltà Estrema Quindi la Marsica Come sistema territorio Ha le carte regola Per esprimere Una candidatura Per esprimere Un nome di qualità Il territorio compatto Lo è nel momento in cui Non siamo esterofili Il principio di fronte È questo Noi abbiamo sempre Votato all'esterno Oggi è il momento Di dire Basta È il momento Di scegliere Un uomo O una donna Di questo territorio Che lo rappresenti E che porti avanti I problemi Che il territorio ha Dopo i consiglieri Del Movimento 5 Stelle Anche il centro-sinistra Punta il dito Sui ritardi Riguardanti L'istituzione Della nuova Pescara Chiamando In causa La regione Ma anche L'aggiunta Masci Paolo Renzetti Nuova Pescara Si rischiano Ulteriori ritardi Ulteriori slittamenti Il Partito Democratico Alza la voce Sì L'alziamo E anche Con grande forza Visto anche L'impegno Che c'è stato Da parte Del presidente Della commissione Finanze Tesoro Del Senato Che è riuscito Ad ottenere Un emendamento Che porta Un finanziamento Uno stanziamento Piuttosto corposo Ai comuni Che intendono Appunto Fondersi Per la fusione Dei comuni Con Un numero Di abitanti Superi A 100 mila Quindi Noi rientriamo In questo tipo Di Emendamento Sono 105 milioni Di euro Per avviare Il processo Di fusione Attraverso L'unificazione Dei servizi E creare Quella struttura Idonea Soprattutto per Monitorare Valutare Osservare Programmare Delle azioni Anche in linea Con quanto previsto Dal PNRR Quindi noi Chiediamo Ancora una volta Innanzitutto Anche al sindaco Masci Che ha partecipato Grazie al Convolgimento Del senatore Luciano Alfonso Del Partito Democratico Attivamente Ha degli incontri Una sorta di Anche programmazione Proprio finalizzata A portare avanti Il processo Di fusione A farsi sentire Il centrodestra In regione Ma anche il centrodestra Qui in comune E soprattutto Il sindaco Masci Deve iniziare A dare delle risposte Chiare Ai cittadini Che si aspettano Questo processo Di fusione Da anni Quindi Alzeremo la voce Ancora di più Noi vogliamo Che si vada avanti Adesso ci sono I finanziamenti Si sta lavorando Si stanno creando Dibattiti Si sta creando Un movimento di idee Vogliamo che Questa fusione Avvenga nel tempo Più breve possibile Fermo ristando Che loro parlano Di un rinvio Solo per prendere tempo Ma di fatto Noi dobbiamo pensare Che la nuova Pescara È già realtà A tutti gli effetti Ci spostiamo a Chieti Una sollevazione pubblica Se il direttore Della Asle Università Non parteciperanno Al nuovo Consiglio Comunale Che le associazioni Chiedono Al sindaco Di convocare Sui temi urgenti Per l'assistenza sanitaria Al cittadino Sovraffollamento Liste d'attese lunghissimi Ma soprattutto Assistenza lacunosa Sono i problemi Che non sembrano Avere soluzione Ma che invece Potrebbero essere risolti In breve tempo Saregna Secondi Le associazioni di Chieti Seguitano Ad interessarsi Dei problemi Della sanità teatina Sono tanti E oggi Chiedete di nuovo Un Consiglio Comunale Con i vertici Della sanità teatina Noi associazioni Chiediamo Che il Consiglio Comunale All'unisono Si riconvochi Nuovamente Ed inviti I massimi responsabili Ed esponenti Della sanità regionale Il Presidente Della Giunta regionale L'assessore regionale Della sanità E il Direttore generale Ed il magnifico rettore Laddove non dovesse esserci Questa convocazione O laddove Invitati Al Consiglio Comunale Questi quattro Soggetti interlocutori Non dovessero presentarci Noi andremo avanti Con un'iniziativa Di sollevazione pubblica Faremo una pubblica assise Chiameremo Rinviteremo nuovamente Il magnifico rettore Il Presidente Della Giunta L'assessore regionale Ed il Direttore generale Della ASR Insieme ai consiglieri comunali E soprattutto Insieme a tutta la cittadinanza Affinché Anche L'opinione pubblica Ci segue Ci affianchi In queste battaglie Nessuno Fino adesso Nella città di Chieti Ha posto il problema Se Chieti vuole Un ospedale Di secondo livello Ospedale Che viene previsto Da un decreto ministeriale 70 del 2015 Sono passati sette anni Nessuna decisione Poi abbiamo il problema Nessuno si è posto il problema Che la città di Chieti È sempre e comunque E comunque vicino ai cittadini E alle associazioni E ai comitati Dei cittadini Quando soprattutto Riguardano i problemi Della sanità Quindi noi siamo A completa disposizione Dei cittadini E di questi comitati Per risolvere E cercare di risolvere I problemi Veramente importanti Tutti quei nodi Che sono arrivati Al pettine Di cui Mass Media In queste ultime settimane Ci danno Informazione Dei problemi Appunto Riguardanti Sia la sanità territoriale Ma soprattutto Quella ospedaliera Della nostra ASL Come ogni estate Anche quest'anno Goletta Verde È arrivata in Abruzzo Tante le iniziative Odierne a Pescara Con il flash mob Per l'eolico Sì All'eolico offshore Questo Il titolo Se così possiamo dire Di questo flash mob Di questa mattina A Pescara Quali i motivi? Sì A bordo di Goletta Per quest'anno Viaggerà il Il tema di questa campagna Che promuove L'eolico offshore Naturalmente Il nostro obiettivo Anche qui in Abruzzo È quello Di promuovere L'eolico Sia quello In terra Che quello in mare Oltre alle Altre fonti rinnovabili Che ci sono In programma Qui in Abruzzo Perché L'obiettivo È quello Di liberarci Dalle fonti fossili Quindi promuoviamo Anche su Goletta Quest'anno Questa campagna Goletta Verde in Abruzzo Mare pulito Nella nostra regione Questo Già un buon segnale Certo Domani Verranno presentate A bordo di Goletta Poi tutte le Campionature Che sono state fatte Sulla costa abruzzese Per quanto riguarda Il flash mob di oggi Si parla di eolico Negli anni scorsi Si era parlato Della possibilità Di alcuni impianti Tra Abruzzo E Molise A che punto siamo? Allora Noi cerchiamo adesso Anche con questo flash mob Di promuovere E' una velocizzazione Di questi impianti Perché già in passato Purtroppo A causa della moratoria Sono stati persi E' stato perso Un po' di tempo Quindi cerchiamo Di portarci avanti Per velocizzare Un po' Quelle che sono Le pratiche Per Anche per portare Avanti Gli obiettivi dell'Italia Che sono quelli Di portare il paese A emissioni zero Entro il 2050 Noi dobbiamo Accelerare la transizione Energetica Per farlo Dobbiamo puntare Sulle fonti rinnovabili Tra le fonti rinnovabili Le eolico offshore Quello che chiediamo Noi come Legambiente Come Goletta Verde Oggi qui a Pescara Nel suo primo giorno di tappa E' conoscere Quelli che sono I progetti A livello nazionale E insieme Ad amministrazioni E aziende Rendergli dei progetti Davvero sostenibili In Abruzzo Al momento Non ci sono Progetti Ma speriamo Che anche l'Abruzzo La regione Si decida Ad investire Su questa fonte Sostenibile Legata alle energie Rinnovabili E che ci permetta Di arrivare All'obiettivo Di decarbonizzazione Entro il 2030 Restiamo in città Dove si punta Su un ferragosto Da record L'amministrazione comunale Presenta la notte Dello shopping In programma Il prossimo 10 agosto Una notte Come giustamente Diceva lei Interamente Dedicata al commercio Che sarà Al centro Dell'attenzione Non solo Della città di Pescara E dei cittadini E di tutti coloro Che sono a Pescara Per le vacanze Ma dell'intera regione Abruzzo Abbiamo deciso Abbiamo deciso di fare Nel quadrilatero centrale Della città Una serie di eventi Che aglieteranno La serata Ma abbiamo anche deciso Di non fare grandi eventi Proprio perché Il protagonista assoluto Della serata Sarà il commercio cittadino Con i negozi Aperti Fino alle 24 E con tutti gli esercenti Che appunto Opereranno per strada Per rendere La città vivibile In un modo diverso Dal solito Fino a tardanotte Speriamo in armonia In serenità Sessore Pescara E' piena di turisti C'è molto movimento Insomma E' un'estate Da numeri Quasi record Per il Capologo Adriatico Ma dai dati Che noi abbiamo Anche da Federalberghi Diciamo che abbiamo De vere e propri numeri Da record Devo dire la verità Che questo risultato E' un risultato Che ormai va avanti Da circa due anni Pescara si sta affermando Grazie a una serie Di interventi Il primo La bandiera blu Ma anche le iniziative Che abbiamo posto Sul territorio Si sta affermando Come davvero La capitale Della fascia Adriatico In questo momento Pescara è piena Di turisti E quindi Agosto sarà ancora Partiranno Adesso partirà Sia il Willow Fest Che il Festival D'Annunziano E quindi avremo Un'estate Un agosto Davvero Pieno 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 Di impegni E speriamo di attirare Tantissima gente Sul nostro territorio Così come già Fino adesso è Artinact Raggiunge quota 9 Aprirà i battenti A Villa Paris Di Roseto Degli Abruzzi Giovedì 4 agosto Alle ore 18 Con l'esposizione Delle 15 opere finaliste Del premio biennale Giovani per la ceramica Oltre a una mostra Antologia Dedicata al maestro Giorgio Saturni A cura di Lucia A cura di Lucia Arbace E uno spazio espositivo Castelli Di ceramica Le novità Sono interessantissime Perché la rete Di partner Si ampia Quindi La manifestazione Diventa Un qualcosa Di sempre più Condiviso Per quanto riguarda I giovani Verranno esposti 15 Dei ragazzi Partecipanti Alla Seconda edizione Del premio GXC Giovani per la ceramica Sono ragazzi Molto in gamba Ragazzi che si sono Confrontati Su tre temi Il tema Diciamo Del concept innovativo Premio Giancarlo Ciannella Il premio Diciamo Aderenza Alla tradizione Castellana Premio Serafino Mattucci E il premio Per l'arditezza Tecnica E l'industrializzazione Premio Camera di commercio Del Gran Sasso Abbiamo Dei lavori Davvero Interessanti Abbiamo Appunto L'occasione Di far conoscere Questi giovani Al mondo Speriamo Al mondo Perché insomma Noi Nel nostro piccolo Facciamo vedere cose Che speriamo Che poi Riecheggino Riverberino Nel resto Diciamo Del territorio E quindi ecco Ci attendiamo Una bella edizione Da sempre Il nostro interesse Per Castelli È stato contraddistinto Da iniziative Molteplici In questi giorni Abbiamo visto Visite Castelli E quindi Le residenze D'artista E quindi Molteplici Appunto Iniziative Che vanno A valorizzare Quella che è La tradizione Castellana Ma anche A cercare Un'innovazione Che possa Condurla A confrontarsi Con successo Con il mondo E anche Con panorami Produttivi Che aprano Nuovi mercati Ai suoi artigiani E alle sue aziende Questa iniziativa In particolar modo Ceccara Non soltanto Perché sottolinea Il ruolo Dei giovani Nella reinterpretazione Di Castelli E della tradizione Castellana Ma anche perché Attua pienamente I principi Della sussidiarietà Circolare E quindi Enti pubblici Enti del terzo Settore E popolazione Che si uniscono In una corresponsabilità Sia nella fase Progettuale Che nella fase Esecutiva Ed è questo Che secondo noi Costituisce Il vero successo Di qualsiasi Iniziativa La condivisione Con la popolazione E con La società Civile Appunto Tutta Di qualsiasi Progettualità Che vada A reinventare E potenziare Quelle che sono Le attitudini Di un luogo Red Canzian Sarà Tra i protagonisti Della ventesima edizione Del Blue Bar Summer Festival In programma Dal 4 Al 7 agosto A Francavilla Al mare Tra le novità Di quest'anno Anche l'istituzione Del premio Music Book Dedicato a giornalisti Musicali Le novità Sono innanzitutto La grande musica Che c'è sempre stato Non è che quest'anno Cala La musica è sempre alta Partiamo Da Red Canzian Che è un Un artista Rock pop Che io Identifico Come il nostro Paul McAfee Italiano Per arrivare Al quarto giorno Con questa banda Inriverente Banda Bardot Passando poi Per il blues Di Fabio Treves Il blues tough E il prog Che faremo Con Le Orme Che è uno dei gruppi Riconosciuti Rock progressivo italiano Poi ci saranno Altri gruppi Come i Maghi Altre situazioni Un concerto All'alba Del giorno 5 Con il gruppo Caronte E poi L'istituzione Di un premio Che è il Blue Bar Music Book Che daremo A 4 giornalisti E scrittori Esclusivamente musicali Imperdibile Come sono state Le 19 edizioni Precedenti Dove è sempre stata Offerta Grande musica Sarà Così quest'anno E sarà così Negli anni Successivi Perché il gruppo Direttivo Del Blue Bar È un gruppo Che vive Con grande passione Sono anche loro Dei musicisti E amanti Della musica E lo fanno Con tutto l'amore Possibile Per cui Al di là Della mia Direzione artistica Anche senza Direzione artistica Loro porteranno Per sempre Avanti Questo Blue Bar Festival Con grande qualità Nenti anni fa Abbiamo dovuto portare Questo indirizzo Alla città Di fare Suggerimenti musicali Creare l'attenzione Le media E del turista Non avendo Un'organizzazione Da villaggio turistico Poco la musica Identifica un po' Che in quel momento Faceva un po' Fatima E allora ci siamo Messi insieme Per creare Un po' Di movimento A livello E Questo è L'obiettivo Portare avanti Sempre Questa bellissima Immagine La città Al meglio Ci prendere Quello Che ci proviamo Di fare Siamo allo sport Salvatore Aloi E Mattigia Boben Sono molto Vicini al Pescara Trattative in fasi Di quasi conclusiva Per puntellare L'organico Di Colombo Poi mancherebbe qualcosa In attacco Jacopo Forcella Tutto su centrocampo E difesa Perché dopo gli spirali Delle scorse ore La pista Salvatore Aloi Adesso sembra essere Quella più calda Per il Pescara Che conta di avere Il centrocampista Dell'Avellino Già in settimana Anche il direttore sportivo Biancazzurro Daniele Delicarri A Sport Channel Ha confermato Che la trattativa Può essere entrata Sul binario giusto Secondo me Oggi è l'ultimo giorno Utile Penso Perché Da quello che mi dice Anche Del direttore dell'Avellino De Vito Dove potremmo risolverla oggi Senta I termini sono Sempre quelli Che sono emersi L'altra volta Prestito con riscatto Prestito con riscatto In difesa Anche qui siamo Un passo dalla conclusione Dell'affare che dovrebbe Portare in Abruzzo Il difensore sloveno Della Ternana Mattia Boben La formula dovrebbe essere Quella del prestito Boben dunque Lascerebbe la Ternana Dopo due stagioni di fila Disputate con 29 presenze Nella prima stagione In Serie C E 25 Nella sua seconda stagione In Serie B A quel punto Con Ghionne e Craia Che sono virtualmente Già giocatori biancazzurri Ci sarebbe lo spazio E il tempo Per concentrarsi Su tre quartiste Attaccante Ma solo dopo aver Completato dei reparti Specie quello mediano Che necessitavano Di un restyling E dell'inserimento Anche quantitativo Di elementi Adatti alle esigenze Del tecnico Alberto Colombo Davanti con la Ternana Potrebbe essere Imbastito Anche un discorso Per Alexis Ferrante Anche considerando Il rinnovo Colcomo di Alessandro Gabrielloni L'attaccante Comasco Ha annunciato L'allungamento Del contratto Per tre stagioni Ancora Sino al 2025 Si era parlato Nelle scorse settimane Anche di una sua Possibile partenza Magari in prestito E magari proprio a Peschiara Un'ipotesi Che questo gesto Sembra allontanare E che in ogni caso Conferma chiaramente Il rapporto di fiducia Del club Comasco Verso uno dei suoi Giocatori più amati E rappresentativi Protagonista Della doppia promozione Dalla serie D Alla serie B Udienza del TAR Prevista per oggi Destini del Teramo Legati alla pronuncia Dell'organo Di giustizia amministrativa Fiato sospeso In casa Biancorossa Per capire Se la serie C Sarà ancora Un orizzonte Possibile Appuntamento Col destino Oggi il TAR Si riunirà Per discutere Nel merito Della situazione Di Teramo E Campobasso Escluse Dalla serie C Sospensiva Nella migliore Delle ipotesi Per il diavolo Potrebbe confermare L'ordinanza di sospensione E a quel punto La Federcalcio Dovrebbe reinserire Teramo E Campobasso Nel Lega Pro Onde Evitare una battaglia Legale Impugnando una decisione Che non gioverebbe Davvero a nessuno Non è semplice Ma c'è il precedente Della Paganese 2016-2017 Riammessa in serie C Proprio dalla giustizia Amministrativa Dopo l'esclusione Da parte Della giustizia sportiva La seconda possibilità È l'accoglimento parziale Della richiesta Biancorossa Ovvero Di quella parte Che chiede L'inserimento Del diavolo Una categoria Più In serie D Infine È la peggiore Che il Tarre Revochi L'ordinanza di sospensione Anche della richiesta Fatta in subordine Ovvero quella Della serie D E a quel punto Ci sarebbe la necessità Di imbastire velocemente Il bando Per le manifestazioni Di interesse Per cercare Di costruirsi Una squadra Totalmente nuova È evidente Che negli ultimi Due casi Ci sarebbe lo svincolo Da parte dei giocatori Attualmente sotto contratto Visto che si passerebbe Ad un regime Dilettantistico Lasciando il professionismo Eventualità che Fino alla pronuncia Nessuno a Teramo Vuole o riesce A contemplare Certo Le criticità Sono tante Come visto In questa lunga estate Che ad agosto Non ha portato nulla Che assomiglia Ad un discorso Sul calcio O sul mercato La situazione È di assoluto Stand by Si guarda A quello che accadrà Oggi E poi Si tireranno le somme Comunque vadano le cose Però Poi saranno le lancette Dell'orologio A scadire il futuro Del diavolo E se finora Sono andate Già a ritmo sostenuto Da domani Correranno In maniera inesorabile Si chiude qui Il nostro telegiornale Tutte le notizie Che avete visto Sono disponibili Sul nostro canale Youtube O al sito www.tv6.it Prossimo aggiornamento Alle ore 19 Grazie per l'attenzione E buona giornata Grazie per l'attenzione